Sindaco Brucchi, il Partito Democratico ha preparato delle calze per i cittadini di Teramo per il giorno della Befana all'interno del sale, visto che è probabile che tornerà a nevicare. Mi sembra una buona iniziativa quella del Partito Democratico, finalmente fa qualcosa per questa città perché in questi anni dove è stata l'opposizione non ha fatto niente, quindi se ha investito qualche soldino per regalare del sale alle famiglie terramani credo che abbia fatto una buona attività, complimenti al Partito Democratico. I consiglieri di opposizione hanno definito la sua giunta un'aggiunta politicamente incapace, il Piano Neve, la gestione del Piano Neve e il Capodanno fotografano, secondo i consiglieri del PD, l'aggiunta Brucchi. Lei cosa risponde? Io rispondo con i fatti perché di chiacchiere se ne fanno tante. Ho fatto una conferenza stampa dove ho dimostrato che nel 2014 abbiamo ottenuto fede al patto di stabilità, abbiamo ridotto i dirigenti da 10 a 7, abbiamo ridotto l'indebitamento di questo ente del 7%, abbiamo ridotto la spesa del personale del 20% di oltre 2.200.000 euro, abbiamo mantenuto i servizi di scuole sociale a livelli altissimi, abbiamo immesso nel territorio terramano oltre 6.200.000 euro per opere pubbliche, quindi un micro volano per l'economia cittadina. Questi sono i fatti. Di chiacchiere se ne fanno tante, il PD ne fa tante. In questi anni, da quando io sono sindaco, non c'è stata una sola proposta per risolvere i problemi di questa città. Noi abbiamo con i fatti risposto e abbiamo risolto tanti problemi. Uno su tutto è il traffico a terramo che era il problema principale di questa città fin dagli anni del sindaco Sperandio. Non avete però ridotto il numero degli assessori, sono ancora 9 e l'opposizione dice che questa è un'aggiunta molto costosa e soprattutto non avete ridotto le tasse con la tasse alle aliquote massime. Innanzitutto che la tasse al massimo non è vero perché noi abbiamo applicato il 10,6% e il massimo è l'11,4%. Nel 2014 abbiamo ridotto la Tari del 22% per quanto riguarda gli opifici, dall'8 al 10% per quanto riguarda le famiglie terramane, ma questo il PD non lo sa, ma le famiglie terramane lo sanno. Per quanto riguarda la Tasi e l'Imu abbiamo avuto, secondo il nostro regolamento, che è un regolamento che cercava di garantire le fasce più deboli, inserendo l'Isee, quasi 1.800 richieste di esenzione. Io in campagna elettorale ho sempre detto che avremmo fatto un'aggiunta 8 a 9, ha mantenuto fede al mio impegno. Nell'anno prossimo, nell'anno 2015, faremo una verifica di giunta e vedremo insieme alla coalizione cosa fare.